music and more web radio buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'oroscopo di music and more come stai Giulia? bene bene grazie tu come stai? tutto bene dai tutto bene allora siamo qui come ho già anticipato per una nuova puntata dell'oroscopo questa settimana è dal 31 al 6 giugno esatto 31 maggio 6 giugno 31 maggio 6 giugno wow è proprio siamo lì al limite al limite arriva l'estate e niente allora come tematica di questa settimana cosa abbiamo trovato? allora come tematica affronteremo il bon ton nel mondo ah nel mondo quindi? nel mondo si proprio globale così se visto che ritornando al fatto che ci sarà la possibilità di uscire magari prenotare qualche viaggetto qualche viaggetto tutti faremo magari il vaccino e quindi quando saremo più liberi sicuramente oltre al portafortuna che abbiamo fatto nella scorsa puntata certo no due puntate fa questa potrebbe servire anche è comunque una curiosità come buona usanza esatto anche perché alla fine quando uno va in vacanza comunque va in qualche posto a mangiare tipico esatto e quindi ci sta a scoprire anche qualche curiosità tipica del posto perfetto iniziamo subito allora va bene ariete negli ultimi giorni avete spazzato via alcune situazioni di riferimento o avete dovuto discutere con persone dagli atteggiamenti poco chiari per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo cambiamenti e tensioni forse quello che vorreste si facesse non viene compreso o accettato da chi vi sta intorno e questo può generare dei fastidi ora però siete in fase di recupero e vi sentite meglio e non cercate dispute o contrasti con gli altri e per gli ariete iniziamo subito con la corea del sud ovvero in corea del sud gli anziani vengono prima di tutto eh beh infatti è nota per la sua forte cultura tradizionalista fatta di totale rispetto per le persone più anziane infatti non toccate assolutamente il cibo prima che la persona più anziana al tavolo non abbia cominciato a mangiare potreste essere considerati estremamente irrispettosi ah beh carina come usanza bellissima sì un po' come da noi che bisogna un po' portare rispetto alle persone più grandi aspettare che ci sono tutti a tavola per iniziare esatto ok toro vivete la settimana serenamente cercando di evitare contrasti cautela nei rapporti con gli altri nelle relazioni con persone che in questi giorni potrebbero provocare disagi soprattutto siete molto suscettibili e stanchi e questo si noterà resta però il desiderio di apportare profondi cambiamenti alla vostra vita ci sta sempre qualche ventata di cambiamento per forza altrimenti non ci si evolve vero arabia saudita potete mangiare con le mani a patto che usiate solamente tre dita infatti nel mondo arabo praticamente si può mangiare tutto con le dita l'importante è che però dobbiate usare solamente tre dita per farlo esattamente tre dita in particolare oppure io penso sia a caso eh io penso sia tipo pollice indice e medio eh sì assolutamente penso sia come cazzo pollice e medio no il mignolo 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 e anulare bellissimo e quindi il perché è perché lo faceva il profeta maometto o come fece ora io non conosco però probabilmente è legato a questo tipo di figura bene bene gemelli avete molti progetti nella testa e se avete accettato un invito ad andare fuori sfruttatelo al meglio fate attenzioni a questioni legate al fisico perché da due settimane qualcuno di voi si è dovuto fermare in vista di un progetto legato all'estate e dovrà curare di più la forma avete un buon cielo per incontri e relazioni e potreste anche concludere buoni affari grazie a mercurio e il sole favorevoli ah bene io nel dubbio mantengo la mia linea curva e sono tranquillo esatto dai ormai quest'estate la scusa c'è ma c'era il covid eh il covid chissà quanto ce lo porteremo avanti l'anno prossimo ci sarà eh ma sono ancora traumatizzato dal covid gli altri anni usavo come prova costume quella di carnevale invece quest'anno userò come scusa che non sono riuscito ad allenarmi che pigri che siamo e per i gemelli abbiamo il Cile in Cile non si mangia niente con le mani a differenza dell'Arabia Saudita meglio infatti in Cile le mani sono vietate potete usare solamente le posate per mangiare non provate neanche con le patatine assolutamente sai che le patatine frite eh quelle magari un po' ti eh esatto ti stuzzica e invece no perché sareste guardati con disprezzo dalla popolazione che non tollera questa pratica ah beh attenzione non so se dire che è una cosa positiva o negativa perché alla fine c'è anche igienico usare le forchette eh sì le posate però vabbè con le patatine non si riesce eh dai non si può col sale che rimane sui polpastrelli bellissima cancro in questa settimana farete il punto della situazione soprattutto in amore dato che ci sono delle relazioni un po' problematiche e qualcuno sente il desiderio per un'altra persona pur amandone un'altra ahia cancro non si fa siete quindi colpiti da un desiderio omisso tra tradimento e conservazione altri invece stanno vivendo una storia d'amore poco affidabile e hanno dei dubbi il vostro amore non si discute ma bisogna capire a chi è rivolto eh sì cavoli un oroscopo tutto amoroso per il cancro cancro concentratevi sul lavoro che è meglio eh sì sì e per il cancro abbiamo il Medio Oriente dove è obbligatorio utilizzare solo la mano destra infatti in alcune regioni del Medio Oriente, dell'India e in alcuni paesi africani i mancini hanno decisamente dura vita tipo meh eh sì come mi stavi dicendo poco fa quando sei a tavola è obbligatorio l'uso della mano destra tu dovresti legarti ti dovresti legare la mano sinistra dietro la schiena e forzatamente cioè tu ridi ma quando ero piccola ci hanno provato è brutto non ti dico quando ne hanno fatte però niente sono rimasta super strong imperterrito fedele Leone sopra di voi c'è un cedo importante senza ostilità e cambiamenti ma molti di voi hanno una gran voglia di mettersi in gioco o esplorare il futuro con serenità questo periodo è pieno di opportunità peccato che Marti in opposizione crea qualche difficoltà finanziaria dalla fine di aprile infatti in molti hanno i soldi contati o guadagna un pochino meno chi vuole portare avanti un progetto o un'occasione avrà un'estate importante al suo fianco l'importante è che si recupera e per i leoni abbiamo la cina apprezzare il pranzo finendo con un ruttino ruttino che bello ruttolivero bellissimo questa già era abbastanza conosciuta perché te lo giustifichi quando sei a cena e ti tiri un ruttazzo e poi ti guardano tutti guarda che in Cina vuol dire che è piaciuto eh sì sì bellissimo ti giustifichi in questo modo che bella usanza Vergine avete un rano che vi transita nel segno e vi sta aiutando a portare avanti determinati progetti entro l'estate qualcuno potrà riconfermare una bella storia o vivere una bella emozione nuova questo è un ottimo periodo per chi vuole viaggiare magari entro l'estate qualcuno potrebbe programmare un trasferimento o un trasloco a seconda dell'età fate molta attenzione all'aspetto finanziario sia che si voglia iniziare una nuova vita sia che si voglia condividere la vita con qualcuno oh che bella cosa che dolci e per voi abbiamo sempre in Cina l'usanza di non girare assolutamente mai il pesce per mangiarlo quindi esempio avete il pesce nel piatto e neanche se dovete deliscarlo praticamente girandolo evocherebbe l'affondamento della barca che lo ha pescato quindi se volete mangiarlo prima di tutto dovete consumare un lato dopodiché togliere tutte le lische e procedere per mangiare l'altro lato chiaramente sempre senza fare gesti troppo eh sì pericolosi ai 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 pericolosa però comunque questa usanza sì molto importante però almeno se andiamo in Cina visto che qua lo facciamo praticamente tutti per togliere la pelle girare bilancia ritroverete energia positiva dopo le giornate di venerdì e sabato cercate di abbandonare il sentiero delle polemiche per costruire qualcosa di più periodo di recupero anche per studenti e persone che vogliono fare di più state facendo sempre più passi verso una nuova strada o un nuovo orizzonte di vita complimenti bilancia per bilancia abbiamo il portogallo dove non bisogna mai chiedere sale e pepe non fatelo mai e poi mai se non volete offendere lo chef infatti chiedere sale e pepe è considerato estremamente maleducato perché vuol dire che il pasto servito manca totalmente di gusto mia sorella non può andare assolutamente in portogallo perché lei mangia totalmente salato anche io uguale no non potete andare in portogallo però mi hanno detto un amico viaggiatore che è andato in portogallo che già utilizzano una marea di spezie quindi è praticamente impossibile riuscire a pensare di trovare un qualcosa di insipido scorpione si raccomanda di dare spazio alla voglia di cambiamento che vi riempie forse vi siete stancati di fare sempre le stesse cose ma attenzione a non prendere strade troppo impervie e sconosciute e questo non è assolutamente il momento di rischiare mettete a posto dei contenziosi di tipo economico ogni progetto e idea che avete in mente devono essere gestite con estrema attenzione e per voi c'è la Thailandia infatti anche se siete tentati evitate di prendere l'ultimo boccone dal piatto in Thailandia sareste considerati solo degli ingordi per questo popolo infatti la tavola è il momento in cui va esaltato il principio di comunità non a caso evitano di ordinare piatti diversi ma ne scelgono uno per tutti da condividere in serenità ah ecco perché va bene è il classico nostro la fetta dello dello stronzo quando durante un aperitivo resta l'ultima patatina che poi è il boccone più buono esatto io sono tipo l'inchia che mangio la fetta dello stronzo tutti in silenzio mangio tu mangio tu va bene mangio io mangio io se non parla stronza eh lo faccio bene lo facciamo bene Sagittario tutti coloro che da anni lavorano in città e in ufficio stanno aumentando il loro tasso di ribellione perché non riescono a risprimere il loro desiderio di contatto con il mondo il destino però favorirà un cambiamento sul lavoro per i più fortunati o energici o per chi ha un partner complice si apre un periodo di scelte che possono riguardare l'ambiente in cui si vive è tempo di cambiare all'inizio può sembrare molto difficile ma domani potrebbe essere davvero davvero appassionante e per il Sagittario abbiamo in Giappone il divieto di infilzare il cibo con le forchette infatti per i giapponesi infilzare il cibo è considerato un vero e proprio insulto verso chi lo ha preparato se poi avete la malaugurata idea di infilzare la bacchetta in verticale nel riso sappiate che questo è considerato un gesto di cattivo presagio perché rievoca un rituale funebre no allora brutto brutto assolutamente no le bacchette nel riso in questo caso non fatelo mai al sushi quando arriva magari il cameriere che lo guarda sì 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 assolutamente mai capricorno cercate sempre delle buone complicità e siete più contenti se avete accanto delle persone solidali ma non dimenticate che alla fine viaggiate da soli in ogni scelta che fate che può essere sicuramente condivisa con gli altri ma che vi mette comunque in primo piano siete voi che decidete anche in famiglia e nei rapporti interpersonali siete voi ad avere la responsabilità di tutto in questi giorni l'amore è un po' lontano avete a che fare con una persona che ha grossi impegni e non è possibile vedere quanto vorreste oppure siete proprio voi che state desiderando qualcuno che è troppo distante da voi e continuiamo sempre in Giappone di non riempire mai il bicchiere da soli ovvero una regola non scritta in Giappone è che non dovete mai riempirvi il bicchiere da soli sarebbe una missione di alcolismo e dovete per prima cosa riempire il bicchiere di chi vi sede accanto e aspettare che esso ricambi il favore e assicurarvi di ovviamente non iniziare a bere prima che tutti al vostro tavolo abbiano il bicchiere pieno no cioè quindi tu devi versare a lui lui deve versare a te però non puoi ancora iniziare a bere fino a che tutti non hanno il bicchiere pieno sì beh diciamo che un pochino si avvicina al nostro non è al fatto di versare però tipo fare cin cin o salute tutti devono avere il calice pieno e successivamente effettivamente non è tanto lontano dalla nostra cultura vero vero acquario la luna è entrata nel vostro segno avete voglia di cambiare ma questo sarà possibile solo in base all'età che avete se siete giovani poveri indiscriminati per l'età se siete giovani questo cambiamento potrebbe essere legato all'indipendenza che si ottiene allontanandosi dalla famiglia se si è più maturi state cercando di portare avanti un progetto di convivenza ora state anche provando a risolvere un problema personale domenica buona per gli incontri buona meno male ottimo e per acquario abbiamo i noodles sempre in Giappone che devono assolutamente fare rumore infatti esatto infatti se non fanno rumore non si gustano veramente secondo il popolo nipponico per loro quando si mangia i tipici noodles si devono gustare facendo rumore aspirarli tra le labbra inoltre li raffredda più velocemente e contemporaneamente mostra apprezzamento per il piatto pesci domenica da affrontare con coraggio ricordando che alcuni di voi stanno vivendo una forte situazione di conflitto che riguarda soprattutto il lavoro bisogna dare più spazio ai familiari oppure dovete trovare un po' più di intimità perduta chi vuole fare grandi progetti deve fare attenzione perché le polemiche con qualcuno sono sempre dietro l'angolo avresti bisogno di un po' d'amore e nei prossimi giorni la luna vi aiuterà negli incontri chi negli ultimi due anni ha chiuso una storia ora potrebbe avere più di un riferimento nuove storie e nuove emozioni sono in arrivo wow forse coraggio e concludiamo perché dovevo dirlo almeno una italiana eh sì non si dice buon appetito nooo anche se sono la prima a farlo ogni volta e la motivazione è perché i nobili ai tempi per mangiare era un momento di socialità e non di necessità ah ok e quindi era i servi che si augurava buon appetito a cui era concesso di mangiare gli avanzi oh che bruttissimo gesto però che ce ne frega infatti cioè i servi non ci sono più ormai siamo tutti nobili eh e quindi buon appetito buon appetito allora buon appetito e buona serata ci risentiamo alla prossima settimana allora sì abbiamo concluso il nostro oroscopo settimanale vi ricordiamo però i nostri contatti i nostri contatti che sono facebook music e commerciale more instagram chiocciolina music music and more tutto in minuscolo e attaccato e il numero di telefono che è 348 6709 857 top ciao buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti